... ... ... Diventa davvero il mondiale super canadese ancora di più, Tren prova ad entrare... ...e va! Spettacolo, è salto! Higher Canada Sender non a Toronto ma a Pechino era andato vicino... Eh sì, era quello che è andato più vicino nella prima nel primo turno di salti 2.37 quest'anno per il bronzo olimpico e mondiale che qui può diventare medaglia d'oro dopo il terzo posto di Mosca